La partita dai ritmi bassi, poche occasioni, c'era paura, c'era tensione oggi contro il Napoli? C'era paura sì, contro un Napoli del genere, con la squadra dimezzata, con tanti giocatori forti fuori, si poteva sicuramente fare meglio. E che cos'è mancato oggi? Guarda, se te posso dire, è mancata la fortuna, cioè il gol di Tati, il rovesciato, annullato così, guarda, è stato veramente un colpo. Era fuori gioco. Sì, però dai, un po' di fortuna si poteva fare, anche il rigore, il rigore che non è stato fischiato perché era fuori gioco. Le due squadre morte, la Lazio ancora più morta, però ci ha provato, ci ha provato, la Lazio ci deve provare sempre. E ma come mai? C'era un po' di paura, un po' di tensione contro il Napoli. Avevano paura di farsi male tutti e due, secondo me, tutti e due. Quale paura? Perché paura di che? No, no, chiedo, perché, insomma. Perché paura? Chi ha detto? Ha giocato con una buona squadra, si sono solo divisi, ne hanno fatto un tiro in porta, quale paura? Paura non lo so, però molto spenta, sì, poi più che altro, se diciamo che c'è paura, nella squadra c'è paura. No, c'era sonno, tanto sonno. Partita noiosissima. Addormentati anche i giocatori? Ah, non lo so, ma noi sì, noi sicuro. No, tanto noiosa, purtroppo tanto noiosa con Napoli, boh, ventesimato, decimato. Secondo te che cos'è mancato? Cattiveria, quella che manca il 90% dei partiti. Ma è particolarmente sentita, data anche la lotta alla qualificazione Champions, è particolarmente sentita contro il Napoli? C'è rivalità tra tifosi, tra squadra, risale a 40 anni fa, 50 anni fa, c'è invece se vendetterà io e uno scudetto, è storia, è storia. Diciamo che sono un secondo derby in Napoli, come sempre, però giusto il pareggio. Giusto? Sì, giusto il pareggio. Il tifoso laziale è contento o scontento di questa squadra? È contento, sì, io sono sempre contento della Lazio, laziale paura non ha, non ci abbiamo paura di niente, contro tutte e tutti. Arriva in Champions anche quest'anno? Sicuramente. Passiamo pure il turno con il Bayern. Ci scontento, se il centro oggi è arrabbiato, deluso, amareggiato. La colpa è solo di una persona. Dici, dici. Lo posso dire? Dici, vai, vai. Delo dito. Ecco, delo dito. Perché? Perché se tu ti ritrovi che non compri i giocatori, non fai un calciomercato adeguato, ti ritrovi che stai senza i giocatori. Secondo me mancava un giocatore importantissimo, che era Zaccagni, infatti ogni volta nessuno saltava l'uomo, ci ha provato i Saxon, ma non è bastato secondo me. Ritmi bassissimi, secondo me è una partita anche a tratti noiosa, la carica del pubblico non è mancata sicuramente, perché nonostante la curva i tifosi c'erano, si sono fatti sentire soltanto più coraggio, bisogna andare all'attacco. È partita un po' priva di emozioni, si è visto di meglio, ha sbagliato i cambi, l'ha fatto un po' a ritardo, diciamo, un po' a pecca di Sarri però. Ma c'era paura, c'era tensione? La paura sembra che c'è l'abbia allenatore, non forza mai i cambi, però i tifosi c'erano prima di lui. Sarri piace o no? A me personalmente no, però... Ma io sicilente oggi pensavo a Modifici, il problema è che purtroppo ci ha detto male, ci ha detto male, Sarri in bambino, mette i catalni, mette i giocatori che purtroppo sono arrivati al capoligna. È stata una partita noiosa, giocata senza molta grinta, la Lazio forse meritava qualcosa in più. Insomma è una partita contratta, c'era paura contro il Napoli? La partita è sempre contratta. Perché? Sempre. Perché facciamo passaggi, passaggi, 80% di possesso palla, poi non c'è un giocatore con personalità. C'è differenza rispetto alla stagione scorsa? Mentalità. No, l'unica differenza è la mentalità, dove l'anno scorso c'erano due o tre giocatori che avevano personalità e mentalità per poter affrontare certe partite, oggi le affrontano tanto per affrontarle, non per vincerle. Questa è l'unica cosa che posso dire, poi io non faccio l'allenatore. Vabbè che c'entra è un parere da tifoso, cosa c'è di differente? Boh, forse un po' da pagamento rispetto all'anno scorso, troppo sazi del secondo posto preso così facile? Boh, non lo so. La squadra è un po' così, se un po' cacca sotto, non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, perché con un Napoli così rimaneggiato bisognava vincere secondo me. Ma secondo te perché stasera questo atteggiamento? Non lo so, secondo me è pure della Supercoppa che hanno avuto un atteggiamento un po' sbagliato secondo me. Tu dici rimasti un po' scottati? Sì, secondo me è così. Era più facile oggi in effetti, no? È più facile perché a Napoli mancano parecchie giocatori. Prossima partita altrettanto importante per la qualificazione Champions contro l'Atalanta, cosa ti aspetti? Non lo so, non ci abbiamo neanche i tifosi, spero almeno un pareggio o qualcosa del genere, non lo so. Ti vedo distrutto? Eh sì, è andato un po' male la partita. Poi abito dalla curva così oggi in Montemari, un po' moscia. Voto alla partita? Cinque e mezzo, cinque, proprio... Mediocre. Proprio mediocre. Il Napoli è una squadra forte, è vero che era molto rimaneggiata stasera, però comunque non ci scordiamo che l'anno scorso ha proprio dominato il campionato. C'era un timore reciproco, due difese fortissime, si temevano e quindi si sono annullate. Il problema è che mancano i passaggi smarcanti per la punta, sia essa Ciro. Per me Ciro non aveva nessuna colpa, perché gli arrivano pochi passaggi, anche a Castellanos pochissimi, quindi è difficile fare gol. Un desiderio, se potesse esprimere un desiderio per questa fine del calciomercato, quale sarebbe? Io penso che questa è una Lazio molto forte, sono sicuro che arriverà al quarto posto, tranquillamente, io sono certo di questo. Comunque il tifoso è contento della squadra? Io sì, io sì. Quando tutti erano negativi, vedo molte negatività tra i tifosi così, no, io sono ottimista. Milinkovic non si sostituisce così. Può pure comprare 100 giocatori, ma lui, perché lui faceva reparto, era alto, possente, faceva passaggi smarcanti. A Ciro gli arrivavano molti più passaggi in aria, quindi il vero problema è questo, che arrivano pochi passaggi filtranti in aria. Dobbiamo essere ottimisti. Questa è una squadra che secondo me arriverà al quarto posto, sono convinto di questo. 1-0-0 scritto, perché Napoli ormai pensa solo a difendere e non ad attaccare. Gli avrei lanciato dal primo minuto Gong, che è uno dei nuovi acquisti. Per quanto riguarda il Napoli, quanto fa male vedere l'andamento di questa squadra in questo modo rispetto all'anno scorso? Io penso che questa ormai sia una stagione di transizione. Sarà tutto da rifare il prossimo anno. Non ci sono immagini di miglioramento, credo che questa sia una stagione che difficilmente riuscirà a raddrizzare. C'era tensione, c'era paura da parte di entrambe le squadre stasera? Penso che nessuno voleva perdere. Chi arriva tra le prime quattro posizioni a fine campionato? Io ti arrivo fino alla terza, fino alla terza rimane così come ora. Però è una bella scelta tra primo e secondo. Però no, ti dico Inter, Juve, Milan e poi al quarto non si dice. Inter, Juve, Milan e Bologna. Scaramantico? Sì, sempre. Chi arriva? Juve, Inter, Lazio e Napoli? Milan. L'Inter è sicuro, la Juve uguale, Milan e Lazio secondo me. Perché è più forte rispetto a quell'altra squadra. Se la combattono parecchie squadre. Però secondo me la Lazio ci potrebbe arrivare tra le prime quattro. Inter, Milan. Prima Milan di Juve? Sì, probabilmente Juve e poi la quarta non lo so. Juve e Inter, Milan hanno già un posto preso. E poi il resto ce le giochiamo noi, Napoli e Atalanta. Dove arriva quest'anno la Lazio? Ci arriva nelle prime quattro posizioni? Potenzialità c'è là, l'altri non mi pare che stanno a fare meglio. Comunque la quarta posizione è abbastanza, insomma, è combattuta? È tanto combattuta, è tanta ambita, ma stanno a fare levati noi, l'altri ne vincono una, ne perdono due, noi uguali a loro. Quindi per me sa, giochiamo fino all'ultimo. Non si sa, il campionato è lungo, non si sa. Presumente l'Inter vince lo Scudetto. Noi se non compriamo qualcuno, ci credo poco, magari se il Signore ci vede ci fa più a qualcuno. Qual è il desiderio a fine calciomercato? Ma a qualsiasi giocatore, basta che a noi ci serve un attaccante, il centrocampista è un difensore. Insomma, un po' tutti i reparti. Sempre forza Lazio.